Ciao amici ben ritrovati nell'arte di Romi come sempre e come ogni volta un grande abbraccio un saluto grande da parte di Michela e di Roberto allora oggi prima di dirvi un po' di cosette e vedere il video che andiamo a realizzare io vi ricordo perché questa è una domanda che ci sarà fatta vi ricordo che tutti i prodotti che utilizziamo quindi tutti i colori che noi utilizziamo compresi i glitter che utilizziamo sono certificati quindi a chi ci ha scritto io ho risposto in privato dove poter prendere le certificazioni ma soprattutto le certificazioni sono abbinate a un tipo di marca quindi se volete sapere qual è la marca eccetera voi scriveteci e noi vi diamo tutte le spiegazioni ma questa è una cosa importante soprattutto diciamo in questo lungo periodo poi che è stato anche di pandemia eccetera sapere di lavorare comunque con prodotti certificati dall'Unione Europea soprattutto non testare i suoi animali insomma è una cosa molto molto importante detto questo detto questo andiamo a vedere che cosa realizziamo oggi eccetera eccetera allora questo è facile 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 mi raccomando non fatevi prendere dal panico ma è molto molto semplice e carino è divertente da realizzare lo potete fare in tantissimi colori e soprattutto lo potete sfruttare sia per il braccio che per la fronte per il viso eccetera allora siamo pronti per andare a vedere il video tutorial vi ricordo che il video tutorial prima vi trasmetterà diciamo i materiali che verranno utilizzati e poi tutto il video dove potete trovare questi video in premise qui su Youtube quindi il nostro canale Youtube l'Arte di Romi dove potete trovare appunto il video ma potete trovare tanti contenuti fantastici e meravigliosi anche sui nostri social Facebook, Instagram e TikTok più delle volte trovate ovviamente il link per andare a vedere il nostro video oppure trovate delle curiosità oppure trovate dei colori particolari oppure trovate delle cose sceme che facciamo quindi seguiteci anche sui nostri social e come vi dicevo prima se volete scriverci e volete avere informazioni su colori, pennelli, glitter e quant'altro potete scriverci sulla nostra mail l'arte di romi chiocciolagmail.com oppure sulle chat dei social anche lì vi rispondiamo tranquillamente detto questo via il video ciao e alla prossima ciao ciao grazie a tutti 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 Grazie a tutti.